Per me la questione ancora non è chiusa. Che si può fare però? Una serie di approfondimenti per capire se al di là del fatto che gli atti amministrativi sono corretti e vivono di vita propria, poi io credo che la politica abbia degli spazi che vanno interpretati e compresi. Il fatto che un'azienda non voglia prestare un minimo di attenzione in un contesto che è critico, nel senso che c'è una situazione di tensione, c'è un sentimento di avversione e credo che non sia interesse neanche dell'azienda non tenerne conto. È stato detto addirittura che in Consiglio Comunale l'assessore Luccherini avrebbe detto non sono io l'assessore di riferimento, insomma le tensioni non sono mancate. L'assessore Luccherini ha fatto un riferimento di ordine tecnico per spiegare alcuni aspetti di ordine tecnico, poi non ci sono gli assessori, c'è l'amministrazione e a me sembra ieri di averci messo il carico di tutta l'amministrazione comunale. Quindi vediamo? Vediamo, ripeto, siamo un po' amareggiati e personalmente sono un po' disturbata da un atteggiamento un po' protervo, che ripeto non ha niente a che fare con le caratteristiche amministrative, ha molto a che fare col fatto che quando un'azienda entra o è in una città il rispetto e il buonsenso lo dovrebbe tenere in considerazione. Ecco, da domani si fa questo piano delle antenne? Questo è, credo già in elaborazione però, è stato oggetto di polemica, chi fa la polemica oggi non ci ha restituito un piano delle antenne fatto, questo che significa che non sono percorsi semplici, sono percorsi che peraltro sono sottoposti a normative nazionali e regionali che stanno cambiando vorticosamente, dove c'è da tenere in equilibrio l'interesse legittimo di un privato, quale che sia, e l'interesse legittimo dei comitati e dei cittadini, e l'interesse altrettanto legittimo delle amministrazioni, se proprio la vogliamo buttare in politica dico che se la legge Gasparri non fosse stata modificata, noi oggi non parleremo di questa cosa.